Si sta allenando lo Scandicci allievi regionali con due dei giocatori di Mister Davitti uno Davide Alecce, grande protagonista della cavalcata dell'anno scorso e un altro nuovo acquisto, Matteo Parrini, attaccante per questa nuova stagione Partiamo da Davide Alecce Davide, vi sentite un po' anche di pressione dopo il grandissimo cammino dell'anno scorso? Quest'anno sarete una delle squadre da battere? Sì, siamo un bel gruppo, però ci sono altri cinque squadre forti e quindi dobbiamo lottarcela come sempre, come abbiamo sempre fatto Quali sono però gli obiettivi di questo Scandicci? Comunque lottare per i primissimi posti? Sì, quello lì sì A livello personale credi di poter ripetere la stagione dell'anno scorso e anche ovviamente migliorarti? Sì, cerco sempre di dare il massimo, cerco sempre di allenarmi al massimo con il gruppo e spero di far bene Bene, passiamo al nuovo acquisto allora, Matteo Parrini, che gruppo hai trovato in queste prime settimane di allenamento e di lavoro e come ti sei inserito? No, un ottimo gruppo, siamo molto uniti e siamo sempre sul pezzo, almeno cerchiamo sempre di esserlo e speriamo di fare un buon campionato ai massimi livelli A livello personale, visto che sei un attaccante, hai un obiettivo di gol da voler raggiungere? Beh, come attaccante spero di vincere la classifica di Danieli, però non so come si prospetterà questo campionato per me Spero bene di fare parecchi gol, anche per aiutare la squadra Perfetto, ringraziamo allora Davide Alecce e Matteo Parrini Grazie